Ma è tanti. Visto che siamo qua, per esempio, immediatamente direi Walter Bonatti, nel senso che se c'è stato un uomo libero nella vita, assolutamente libero, è stato lui nel senso che ha liberato addirittura il suo spirito nei luoghi più straordinari, impervi, difficili e alti della Terra. Ma penso al maestro Barenboim, alla libertà che sta cercando di costruire attraverso, per esempio, la musica, le sue orchestre, gli artisti veri di per sé sono liberi perché non si curano delle conseguenze delle proprie azioni che diventano a volte involontariamente provocatorie.